casa vende, casa vende, casa vende, casa vende, occhia la carta e la mano cortocoglie fatevi indivinare, fatevi indivinare, fatevi indivinare, fatevi indivinare fatevi indivinare, fatevi indivinare, fatevi indivinare ma veramente indivinare? si figlia mia, c'ent'lino e ti passa la paura ecco i c'ent'lino metti i pensieri, scegli una carta e l'occhio a me, a me lo guardo sto a guardare che ti senti? lì non mi sento niente la carta mi dice che ti senti un ammurato ha fatto la scoperta mamma, non ti senti lì e ti senti bene che stanno dicendo lì? è un giovane che hai 40 anni stai vicino a casa donna? no, stai a casa a salire ma tu non hai una mamma terribile e non hai questo matrimonio ma mia mamma che non vuoi ho un ammurato mio da 40 anni da una moglie e cinque figli e stasera mette in mano la sesta con me e quella se ne va, non divina, non divina sciù, va facciato occhio alla carta e mano al portafoglio giocati, giocati eccolo qua comprate, comprate eccolo qua è da stamattina che vi cerco ma che avete? cambiato marciapiede? io si, signore ho cambiato marciapiede il sole mi offendo a quest'ora è da stamattina anche sotto e per sopra questo marciapiede sto uscendo pazza comprate, comprate i piatti di Capodimonte comprate i piatti del buon appetito comprate cosa mi devo servire, signore? che cosa mi volete servire? voi il servizio già me l'avete fatto ecco la signora bella io non mi ricordo me lo ricordo io me lo ricordo io me lo ricordo io e non lo cercate che si sente la mogliema che è una guerra è una volta è una guerra voglio voglio la guerra mamma non ti arrabbiare e non guardare quello sto calma sto calma Celestino non lo guardo ma però mi devo prendere una grande soddisfazione ma ma signora ma che hai trovato a me fatemi un commercio mio all'assate e mi faccio guardare e non guardare a quello ma voglio che tenga la faccia e lo faccio si quello papà è bello mamma non vi devo guardare incinta e certi cose si hanno scanzato oi parlate con me voi ieri mi avete venduto uno servizio ai piatti non mi ricordo signora io ho venduto tanti servizi c'era forse qualche secca alla zuppiera qualche piatto con disegno differente era per sei o per trentasega eh no erano per dodici e ieri sera mio marito è stato preso in giro per la vostra truffa oi mario signora vedate come parlate calma mamma mamma non lo guardare ha gli occhi di bue e se per mettere lo scudo in faccia zitto tu zitto tu mi avete venduto i piatti di Capodimonte e sono piatti di dubbia prove niente ma non mi fate ridere dubbia prove niente e sti fattori chi li ha pagati li ha pagati voi forse ma voi vorrete che marito capitano ha trent'anni è con me c'era io eh trent'anni vi darei Capodimonte non Capodimonte io domani guardate vengo qua con le guardie eh e se non mi cambiate il servizio eh prima di tutto il servizio non può cambiarsi perchè è fuori usa è stata insegnata che non si può vedere un'altra volta guardate e poi ho piatti di Capodimonte che volevi da tenere guardate guardate insista ancora ma qua Capodimonte è Capodimonte mantenetemi che io mi sbatto per terra mantenetemi che io mi sbatto per terra sono qua non sono piatti di Capodimonte no i piatti dovevano essere due musei e Capodimonte oh eh lei era padrone musee ma non mi fate ridere di accattare i miei piatti di Capodimonte che si può accattare le signore al suo museo di Capodimonte mamma lo sfudo in faccia mamma io non mi faccia mamma io non mi faccia mi chiamato no 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 Grazie a tutti.